Ho condiviso il mio primo post riguardo al mio tumore al seno il 28 dicembre del 2020, ossia il primo giorno della chemioterapia. Ho passato i mesi precedenti, tra virgolette, in silenzio. Passo dopo passo, step by step, Enrica Mengato ha deciso così di condividere la sua malattia. Una decisione maturata piano. 34 anni di Abano Terme, Enrica scopre il tumore grazie ai controlli annuali a cui si sottoponeva. A metà giugno 2020 capisce che qualcosa non va. Dopo il controllo la risposta che mai si vorrebbe avere. Ero in macchina ovviamente da sola perché tutte queste cose, questi approfondimenti e queste visite in tempo di pandemia ovviamente si devono fare da soli o comunque non si può essere accompagnati. e la prima cosa che ho fatto è stata salire in auto e leggere e piangere ovviamente. Due mesi dopo, il 26 agosto 2020, il risultato definitivo. Da allora due interventi, compreso una mastectomia radicale destra e l'avvio delle chemioterapie che danno la sua raccontarsi su Instagram. In mezzo a marzo 2021 anche il Covid che combatte e vince. Fortunatamente avevo già fatto la prima dose di vaccino circa 25 giorni prima. Anzi, la domenica successiva avrei dovuto fare il richiamo, avrei dovuto fare la seconda dose che non ho ovviamente potuto fare. E questo secondo me mi ha permesso di superare il Covid in una decina di giorni e solo con dei sintomi lievissimi. È curata dallo jove Enrica Mengato, da medici che le hanno sempre dato fiducia. Il suo raccontare vuole farlo diventare un libro che spera di pubblicare tra 12 mesi, in ottobre, mese simbolo della lotta al tumore al seno, per offrire il ricavato a chi ogni giorno combatte contro la malattia.